Nella notte nuovo attacco ucraino al ponte di Crimea, con alcuni droni colpita una campata che è stata distrutta. Nel crollo sono morte due persone, il traffico vicolare è stato interrotto. Le autorità di Crimea filorussi hanno accusato l'Ucraina di crimine perché la strada è una struttura puramente civile, ma cose come queste non hanno mai fermato i terroristi. Kiev annuncia la riconquista di altri 7 km quadrati a Bakhmut, ma ammette che la situazione ad est del paese è difficile. Via libera degli Stati Uniti all'addestramento dei piloti ucraini sugli F-16.